Eccoci buonasera e quindi il vertice di Mosca tra Putin e Xi mostra obiettivamente un avvicinamento forte tra la Russia e la Cina e una sfida in qualche modo all'Occidente. Putin che dice noi saremmo pronti a seguire il piano di pace cinese, solo che sono l'Occidente, la Nato e Kiev che non lo vogliono. Putin è stato invitato a Pechino entro l'anno, è importante l'invito sia per la reciprocità, sia perché ancora ci sarà un confronto diretto con Xi Jinping, sia perché per molta parte del mondo Putin non può uscire dal suo paese perché è arrestabile per il mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte Penale dell'AIA. Ma è evidente che la mossa congiunta russo-cinese ha avuto delle risposte. Innanzitutto per dire il vero ha guardato a oriente anche Zelensky che ha ricevuto la visita del premier giapponese a Kiev e che ha annunciato di avere chiesto di poter parlare con la Cina, con Xi Jinping, ma non ha ancora avuto risposta. Vedremo che evoluzione ci sarà sicuramente dopo domani, al vertice dei 27 capi di Stato e di Governo europei, si parlerà dei nuovi aiuti all'Ucraina e in qualche modo ne ha parlato oggi al Senato, ne riparlerà domani alla Camera Giorgia Meloni esponendo il programma del Governo per questo vertice. Ha annunciato ancora una volta Meloni, oltre a parlare di migranti e di tutto il resto, che sull'Ucraina ci mette direttamente la faccia sul fatto di fornire armamenti a Kiev. Non fa tutto alla chetichella come ha fatto un suo predecessore. Il riferimento diretto è Conte che presumibilmente risponderà direttamente domani. Da notare però nel dibattito parlamentare la freddezza, per non dire altro, su questo tema della guerra da parte della Lega, di un alleato, cioè di governo di Giorgia Meloni. Ma come vedremo ci sono tanti altri temi importanti, perché come è chiaro, come è evidente, non c'è soltanto per fortuna la questione della guerra con annessi e connessi. C'è la questione del superbonus, ad esempio, su cui il Governo sta varando una serie di accorgimenti. Si parla di un'estensione fino alla fine di giugno per quanto riguarda le villette, mentre tutto ciò che sono i crediti incagliati è ancora oggetto di analisi e di discussione. Ma c'è almeno un'altra vicenda di carattere internazionale, cioè è interna a un Paese, ma è di rilevanza internazionale, quella che riguarda il possibile atteso ordine di arresto per l'ex Presidente americano Donald Trump per la vicenda dei soldi che sarebbero stati dati alla Pornostar, che si chiama Stormy, non mi ricordo il cognome, anche perché era nome d'arte, diciamo. Per questa vicenda, come si sa, è probabile che la Corte di Manhattan, il Procuratore di Manhattan, per meglio dire, emetta a punto domani un ordine di arresto per Trump. Potete immaginare che cosa vuol dire l'ex Presidente degli Stati Uniti, che per molti è il possibile candidato ancora tra un anno e mezzo alle elezioni, arrestato per questa vicenda. Vedremo qual è l'attesa, ovviamente con opposte tensioni negli Stati Uniti per quello che domani può accadere. Questo è altro, 30 secondi o poco più, i titoli. La Russia è pronta ad accettare il piano di pace cinese, se lo faranno anche l'Ucraina e i paesi della Nato, ma non lo fanno. L'ha detto il Presidente russo Putin nel corso della seconda e conclusiva giornata di colloquio a Mosca col Presidente cinese Xi Jinping, che a sua volta ha invitato Putin in visita a Pechino entro l'anno. Piena sintonia tra i due leader che hanno sottoscritto nuovi accordi commerciali. E dalla capitale ucraina Zelensky ha respinto ogni ipotesi di un cessato il fuoco, servirebbe solo a prolungare il conflitto, ha detto il Presidente ucraino. Scetticismo anche da Washington, in queste ore sale la tensione anche per l'annuncio fatto dalla Gran Bretagna di un invio di munizioni verso Kiev con uranio impoverito. E a Kiev oggi storica visita del premier giapponese Kishida. E sempre sul tema delle armi, Giorgia Meloni ha ribadito in Senato la linea del governo in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Il sostegno militare a Kiev sarà assicurato fino a quando necessario. Poi l'attacco diretto a Conte. Quando era al governo ha aumentato la spesa militare alla chetichella. Noi ci mettiamo la faccia. Ma la premier deve fare i conti anche con il distingo della Lega che si dice preoccupata. Siamo certi che il riarmo tenga lontano la guerra da casa nostra, ha chiesto il capogruppo al Senato. Il governo cerca correttivi al decreto che ha bloccato la cessione dei crediti del superbonus d'inizio, 110%, ed eliminato lo sconto in fattura. Tra le possibili soluzioni ci potrebbe essere la proroga fino al 30 giugno per le villette, ma il nodo principale resta quello dello sblocco dei crediti incagliati. L'opzione F24, proposta da costruttori e associazione delle banche, trova però l'opposizione della ragioneria dello Stato. Stati Uniti col fiato sospeso e sentimenti contrapposti per l'attesa decisione, forse domani, del gran giuris su Donald Trump. L'ex presidente rischia di essere incriminato per i soldi pagati alla porno star Stormy Daniels per comprare il suo silenzio. Una vicenda che rischia di fermare la corsa di Trump nella prossima sfida per la Casa Bianca. A New York, polizia in stato di massima allerta. Buonasera, molte notizie, ne troverete anche molte altre di importanti nel nostro telegiornale, che come avete ben capito però già dall'anticipazione dei titoli, parte da Mosca, dall'incontro tra Putin e Xi Jinping, dall'intesa evidente tra Russia e Cina e dalla sfida all'Occidente. Siamo pronti ad accettare il piano di pace, ma solo quando lo saranno anche Kiev e l'Occidente. Al momento non vediamo una tale disposizione da parte loro. Sono le parole di Putin al mondo in attesa di una risposta alle proposte consegnate da Pechino. per cercare di fermare il conflitto in Ucraina. E la seconda giornata di Xi Jinping a Mosca si entra nel vivo dei colloqui. Russia e Cina rafforzano i loro legami e vogliono impostare un nuovo assetto del mondo. Nel terzo pomeriggio, conferenza stampa congiunta, i due presidenti hanno parole amichevoli, annunciano nuovi accordi economici, commerciali, culturali. Putin accetta di utilizzare lo yuan cinese nei pagamenti con Asia, Africa e America Latina. Tutto mentre Gazprom annuncia consegne giornaliere record di gas russo a Pechino. E poi appunto il tema più caldo. Xi assicura una posizione imparziale della Cina nel conflitto in Ucraina, ma per risolverlo devono essere rispettate le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi, dice, mentre Putin rimette la palla al centro e accusa gli Stati Uniti di minare la sicurezza mondiale. C'è anche la firma di una dichiarazione congiunta dal titolo evocativo, approfondimento del partenariato strategico globale dei due paesi per la nuova era. E poi la crisi ucraina dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace e Cina e Russia si oppongono a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. E ancora i due paesi chiedono di fermare tutte le mosse che portano a tensioni e al protrarsi del combattimento per prevenire che la crisi peggiori o vada persino fuori controllo. Ed effettivamente, mentre il piano di pace cinese appare ancora una scatola da riempire, la tensione sale. In Gran Bretagna la vice ministra della difesa Goldi annuncia l'intenzione di inviare in Ucraina proiettili perforanti che contengono uranio impoverito, come munizioni per i carri armati Challenger 2. Putin risponde in conferenza stampa. Se l'Occidente inizierà a usare armi con componenti nucleari, la Russia sarà costretta a reagire. Lo scontro nucleare è a pochi passi, gli fa eco il ministro della difesa Shoigu. Non la scelta migliore è quella di annunciare e anche di fare, di realizzare quella consegna di munizioni all'uranio impoverito. Non ci vuole un'escalation. La parte giusta, la parte che l'Europa ha scelto, e anche la Gran Bretagna che non fa parte dell'Unione Europea, è quella di un aiuto a chi si sta difendendo, non a creare le condizioni appunto per un'escalation incontrollata. Ma del resto le reazioni che arrivano da Kiev sono improntate a una fermezza però molto chiara. Il primo giorno di pace sarà il giorno della nostra vittoria completa. Volodymyr Zelensky reagisce al vertice di Mosca senza arretrare di un passo. Continuiamo a combattere uniti, ha detto oggi, per liberare fino all'ultima città, l'ultimo villaggio, l'ultima casa, l'ultimo metro della nostra terra. L'Ucraina dunque è contraria. Ad un cessato il fuoco significherebbe allungare il conflitto, ha dichiarato il consigliere speciale presidenziale Podoliak, mentre a Mosca il presidente cinese Xi Jinping discuteva i dettagli del suo piano e di una tregua con Vladimir Putin. Non usate la parola pace per fare gli interessi della Russia e il messaggio per l'asse Mosca-Pechino. Kiev accoglie così la linea americana. Il mondo non si faccia ingannare da temporeggiamenti che danno una mano a Mosca, ha detto il segretario di Stato Blinken. La visita di Xi al Cremlino sarebbe, insomma, la prova che i cinesi non ritengono Putin responsabile delle atrocità commesse dopo l'invasione. Washington, anzi, ripete le accuse che hanno già inasprito fortemente i rapporti con la Cina, vogliono vendere alla Russia le armi da usare in Ucraina. Gli Stati Uniti non possono permettersi di puntare il dito, ha replicato subito il Ministero degli Esteri Cinesi e noi siamo sempre stati neutrali. Sono loro che, come vede tutto il mondo, continuano a spedire armi sul campo di battaglia. La posizione verso il presidente cinese da parte di Zelensky è invece più sfumata di quella americana, anche perché è ancora in attesa di un possibile colloquio con Xi Jinping. L'ho invitato al dialogo, aspetto una risposta, ha ancora ripetuto. Ma in realtà, al momento, quello che preme al governo di Kiev sono soprattutto gli aiuti militari occidentali. Ieri i ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sullo stanziamento di altri 2 miliardi di euro per l'acquisto e la consegna di munizioni di artiglieria all'Ucraina entro il 31 maggio. Un miliardo servirà per rimborsare gli Stati membri che per gli aiuti hanno attinto finora dai propri arsenali 1.300 euro a proiettile ed artiglieria contro i 4.000 dei prezzi di mercato. Un altro miliardo verrà utilizzato per acquisti coordinati all'industria bellica europea, come chiedevano Francia e Germania. Da parte loro, anche gli Stati Uniti, hanno annunciato un nuovo stanziamento di 350 milioni di dollari per inviare in Ucraina i missili e i proiettili dei sistemi I-Mars. E la questione della guerra ha monopolizzato, o quasi, insieme a quella dei migranti anche il dibattito al Senato in vista del vertice europeo di giovedì e venerdì. La libertà a un prezzo, manterremo gli impegni assunti con la Nato, il sostegno militare all'Ucraina sarà assicurato fino a quando sarà necessario. Giorgia Meloni lo ribadisce nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles e poi ancora, punto clou della replica al Senato, con la stessa nettezza che l'Italia è un membro della Nato e che ne condivide la posizione sull'aggressione della Russia e l'Ucraina. Sappiamo che ci sono in questo Parlamento, ad esempio il Movimento 5 Stelle, partiti che prediligerebbero un'alleanza più stretta, magari con la Cina, rispetto ai paesi Nato, partiti che auspicano una resa dell'Ucraina sperando che questo possa allontanare il conflitto invece di avvicinarlo come purtroppo sarebbe, ma non è la posizione di questo governo. Su questo non ci capiamo. Nel mirino Meloni ha messo i 5 Stelle e il loro leader Conte distinguendoli dal resto dell'opposizione dei quali punta a smontare gli argomenti polemici, soprattutto quello di una spesa militare aumentata a discapito della spesa sociale. Che io considero puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini. Questo è falso e in quest'Aula lo sappiamo tutti. L'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso. Conte quando era al governo ha aumentato la spesa militare ma alla chetichella noi ci mettiamo la faccia, aggiunge. Conte replicherà domani durante il dibattito alla Camera, oggi per la Premier è più insidiosa la consonanza con il pacifismo 5 Stelle dell'intervento del capogruppo leghista Romeo. Con il PD invece lo scontro è sull'immigrazione, nel dossier che Meloni vorrebbe fosse il piatto forte del vertice europeo. Abbiamo ottenuto che lo sia, sottolinea, ma che potrebbe invece essere depotenziata una discussione senza nuove decisioni. Emergenza strutturale, quella dei migranti, dichiara la Premier, rilanciando lo slogan bloccare le partenze, la proposta di destinare più risorse per fermare i flussi irregolari, il rafforzamento di Frontex. Chiederà che gli stati bandiera delle ONG si assumano le loro responsabilità, annuncia, e non rinuncia ad una controffensiva rispetto a quello che resta un nervo scoperto, il naufragio di Cutro. Le dirò che la mia coscienza è perfettamente a posto. Spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di povera gente per fare propaganda. Quando ci presentiamo in Europa con mezzo Parlamento che dice non li avete voluti salvare, vanifichiamo i nostri sforzi al tavolo del negoziato, accusa la Premier. Criticate me, ma non l'Italia, è il leitmotiv ripreso più volte nel corso delle comunicazioni e approvate con una risoluzione votata dall'intera maggioranza. L'assenza dei ministri della Lega al fianco di Giorgio Meloni sottolinea la differenza nella maggioranza, le diverse sensibilità sulla guerra in Ucraina, come si minimizza da Fratelli d'Italia, di fronte ai toni e alla distanza dalla linea di Meloni, che esplode nella dichiarazione di voto del capogruppo a Massimiliano Romeo. Forte preoccupazione per come stanno andando le cose, per il solo parlare di offensive e d'armi, per l'escalation che rischia di provocare un incidente senza ritorno. Sia tosta anche nel reclamare dialogo e tregua, non solo al congresso della CGL, incalza il leghista Romeo. Siamo certi che il riarmo ucraino sia per la libertà e tenga la guerra lontano da casa nostra, non al pensiero unico. Che libertà è quella che criminalizza qualsiasi idea che si discosti anche di un millimetro dal pensiero dominante? Assomiglia più, me lo faccia dire, ad una dolce tirannia. Parole pesanti come lo sono anche quelle di Maurizio Gasparri di Forza Italia che parla del rischio di consegnare la Russia nelle mani della Cina. L'Europa dice deve avere un obiettivo di pace. Alla fine conta come si vota, sostiene il partito della Meloni. È un problema per il governo e la credibilità internazionale del paese, attacca il PD. Gli argomenti della Lega sulla guerra riecheggiano quelli dei 5 Stelle, durissimi con la Meloni ma anche polemici con i Dem. Quella della corsa alle armi è una strategia fallimentare, ogni giorno di più sembra che siamo in guerra. Vedete, ci vuole anche onestà intellettuale e questo lo dico anche al Partito Democratico. Chi è per l'escalation militare non può essere anche per un percorso diplomatico che porta alla pace. Delle due l'una. Basta ipocrisie, basta portare avanti i discorsi contraddittori. Le opposizioni presentano quattro distinte risoluzioni. Si dividono sulla guerra, PD a favore del sostegno all'Ucraina, come il terzo polo che appoggia parte della risoluzione di maggioranza anche sulla transizione ecologica. Comuni reposizioni sui migranti, anche se Calenda fa un appello alla ricerca di una posizione unitaria per essere più forte in Europa. Sulla tragedia di Cutro, tutte le opposizioni chiedono l'accesso civico agli atti e pretendono chiarezza. Gentile Presidente, se 88 persone muoiono a 40 metri dalle nostre coste, nulla ha funzionato come doveva. Ammetterlo è doveroso, signora Presidente, tanto quanto evitare di insinuare che il Governo abbia deliberatamente fatto affogare uomini, donne e bambini. C'è una via di mezzo in cui si può dire che qualcosa non ha funzionato. Faccio una bella indagine interna. Dove è mancata la catena di comando? Ancora nulla sappiamo, ma come dice Pasolini, tutti sappiamo, ma non abbiamo ancora le prove. Comunque, la verità verrà a galla. E c'è un'altra vicenda internazionale, prima di andare alle altre questioni italiane, che in queste ore si sta facendo più tesa. nei rapporti tra due alleati storici tra di loro, gli Stati Uniti e Israele. Perché Israele innanzitutto ha attuato col suo nuovo governo, come si sa, in cui è presente l'estrema destra, una decisione che riguarda nuovi insediamenti di coloni ebrei israeliani in Cisgiordania. Questo è stato attaccato dal Dipartimento di Stato americano, che ha definito la decisione sbagliata e pericolosa. Ma ancora di più, Washington ha attaccato la presa di posizione del Ministro delle Finanze israeliano, Smotrich, che è l'esponente di un partito di estrema destra dello schieramento politico israeliano, che a Parigi, in un convegno domenica scorsa, ha detto letteralmente che non esiste il popolo palestinese. È stata un'invenzione per frenare e impedire il ritorno degli ebrei a Gerusalemme e nella terra di Israele. Queste parole, che sono evidentemente incommentabili per quanto sono sballate, vogliono dire evidentemente una deriva pericolosissima anche per gli Stati Uniti. Imprecise, allarmanti, pericolose e offensive sono state definite dal Dipartimento di Stato americano. E forse anche un po' razziste. Andiamo a vedere però le cose italiane. Il super bonus è un problema che ancora non si è risolto. Cosa fare di ciò che è rimasto, di coloro che sono rimasti impigliati nella conclusione dell'esperienza, chiamiamola così, del 110%. L'appuntamento di domani in Commissione Finanze della Camera è di quelli importanti perché vi approderà il decreto che poco più di un mese fa è intervenuto a gamba tesa sulla possibilità di usufruire dello sconto in fattura e dell'accessione del credito per ciò che concerne i bonus edilizi cancellandola dalla data di entrata in vigore del provvedimento e suscitando la protesta delle imprese del settore che hanno lanciato l'allarme circa la sopravvivenza di 25.000 aziende, molte delle quali, oltre a cittadini e tecnici, erano oggi in piazza a Roma sotto le insegne dell'Associazione Esodati del Superbonus proprio alla vigilia di quello che sarà un passaggio fondamentale per ammorbidire i contorni di un decreto che tuttavia resterà fermo nel suo nucleo cioè lo stop a sconto in fattura e cessione del credito. Molti sono però i problemi che rimangono sul tavolo a cominciare da quello che coinvolge chi di quelle opzioni può usufruire con riferimento alle spese effettuate nel 2022 e a tempo fino al 31 marzo per comunicarle all'Agenzia delle Entrate. Il punto è che molti committenti e fornitori non trovano acquirenti ai quali cedere i propri crediti finora erano per lo più le banche e che senza un contratto firmato di cessione al momento non è possibile comunicare l'opzione. Paletto che dovrebbe essere aggirato grazie ad un emendamento e ad un successivo comunicato del Ministero delle Finanze che lo renda operativo da subito. Per chi non dovesse comunque farcela ci dovrebbe essere anche la riapertura dei termini fino al 30 novembre previo pagamento al fisco di 250 euro. Nara priorità è anche il maggiore scoglio resta quello dello sblocco dei crediti incagliati. La proposta sulla quale si lavora resta quella avanzata fin da subito da Abbi e Ance e che prevede la compensazione dei crediti attualmente in pancia alle banche attraverso una quota degli F24 da esse intermediati. Soluzione che libererebbe capacità fiscale e che vede un forte pressing bipartisan. Pressing che però si starebbe scontrando in queste ore con una forte opposizione della ragioneria generale dello Stato. Resta dunque ancora in campo un'altra proposta permettere alle banche solo per i nuovi acquisti di convertire i crediti in titoli di Stato laddove non sia possibile compensarli. Proposta la cui fattibilità tuttavia sarebbe vincolata all'impatto che potrebbe avere sul debito. E sulla scena politica c'è ancora discussione sulla questione che riguardano le unioni e i figli di coppie gay e la questione dell'utero in affitto. Riconoscere la maternità surrogata come reato universale l'offensiva del centrodestra nella delicata partita dei diritti dei figli delle coppie omeogenitoriali che negli ultimi giorni ha acceso lo scontro con le opposizioni PD in testa proda nelle aule parlamentari. La commissione giustizia della Camera ha incardinato la proposta di legge di Carolina Varchi parlamentare di Fratelli d'Italia che considera l'utero in affitto reato universale stendendo al cittadino italiano che ricorre a questa pratica all'estero le pene già previste dalla legge del 2004 la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600 mila a un milione di euro linea sostenuta dalla ministra della famiglia Rocella e rilanciata con frasi shock come quella del parlamentare dei Fratelli d'Italia Mollicone che l'ha definita peggio della pedofilia dal centrodestra convinto che la battaglia sul riconoscimento dei figli dei genitori omogenitoriali abbia come vero obiettivo quello di sdoganare la pratica dell'utero in affitto ma le opposizioni parlano di sovrapposizione di argomenti diversi si preparano alla battaglia in Parlamento e fuori la neosegretaria PD Ellie Schlein schieratissima sul tema dei diritti reduce della piazza di sabato a Milano a sostegno delle famiglie arcobaleno dà voce alla loro preoccupazione i figli di queste famiglie vengono discriminati dopo Milano il governo ha vietato le trascrizioni anche a Padova questa maggioranza ci vuole riportare indietro da qui la decisione di puntare sul nuovo DDL ZAN che prevede matrimonio ugualitario trascrizione per i bimbi e un ripensamento delle regole per l'adozione messaggio chiaro e forte che mette sul chivalà i cattolici del PD ma nelle opposizioni quella dem non è una voce isolata introdurre un reato universale e una fesseria boscia d'appi Europa Riccardo Maggi i 5 Stelle hanno invece portato il caso a Bruxelles la commissione pone fine alle inutili e dannose polemiche sul riconoscimento dei diritti dei figli minori delle coppie omogenitoriali prova a chiudere il caso l'europarlamentare Begin citando la risposta del commissario europeo alla giustizia è obbligatorio per gli stati membri riconoscere l'affiliazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione Europea in queste ore negli Stati Uniti si guarda alla situazione di Donald Trump non per scelte politiche per la ricandidatura possibile nello scontro che sarebbe ancora con Biden per la presidenza tra un anno e mezzo ma perché nelle prossime 24 ore Trump rischia di essere arrestato i palazzi del potere federale di Washington circondati da transenne la polizia di New York posta in stato di massima allerta gli Stati Uniti sono alla vigilia di un giorno che potrebbe diventare storico esattamente come lo fu l'assalto al Campidoglio due anni fa domani infatti la corte di Manhattan potrebbe decidere l'incriminazione e l'eventuale arresto di Donald Trump sarebbe la prima volta nella storia degli Stati Uniti per un ex presidente in queste ore infatti in questo palazzo è riunito il gran giurì chiamato ad un verdetto che l'ex presidente peraltro ha dato per scontato nei giorni scorsi annunciando tramite il suo social network Truth che sarebbe stato arrestato oggi e invitando i suoi sostenitori a scendere in piazza quelli che gli hanno dato retta sono stati pochi l'arresto non c'è stato ma News Nations sito americano ben informato sostiene avverrà domani l'accusa è nota il procuratore federale di Manhattan Alden Bragg imputa a Trump che nega di aver pagato nel 2016 una pornostar Stormy Daniels in cambio del silenzio per una relazione che i due avevano avuto hash money lo chiamano gli americani silenzio in cambio di denaro il pagamento 130 mila dollari fu fatto dallo stesso avvocato di Trump Michael Cohen già indagato nei giorni finali della campagna elettorale Trump rinchiuso nella sua residenza in Florida ha accusato il procuratore afroamericano di essere un razzista e di essersi prestato ad una caccia alle streghe per motivi politici un'incriminazione ed un eventuale arresto stopperebbero infatti la sua corsa per la Casa Bianca il prossimo anno per questo tre suoi fedelissimi nella Camera dei rappresentanti hanno scritto al procuratore chiedendo sia la sua testimonianza che la possibilità di leggere gli atti dell'indagine avvertendolo che un eventuale arresto sarebbe un abuso di autorità senza precedenti secca la sua risposta non ci faremo intimidire dai tentativi di minare il processo giudiziario i legali di Trump hanno fatto sapere che in caso di incriminazione non si aspettano un arresto immediato quantomeno prima della prossima settimana la CNN riferisce che gli ufficiali incaricati di eseguire il provvedimento stanno studiando quella che hanno definito una complessa coreografia qualora Trump si dovesse consegnare per poi apparire in aula a Napoli la polizia ha fermato un giovane che è sospettato di essere l'autore dell'omicidio di Francesco Pio Maimone il 19enne che è stato ucciso a colpi di pistola nella notte di domenica durante una rissa la vittima era totalmente estranea alla vicenda e non aveva precedenti penali di alcun tipo la sparatoria lo ricorderete è avvenuta sul lungomare di via Caracciolo a Mergellina davanti a un locale di ritrovo frequentato da molti giovani l'accusa per il sospetto e omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso la persona fermata un ventenne del quartiere Barra avrebbe legami con la criminalità organizzata e proprio oggi è il giorno in cui venivano ricordate le vittime innocenti delle mafie Cosina Emanuele Aloi Nicola Palumbo 1069 i nomi delle vittime innocenti di mafia letti dal palco di piazza Duomo a Milano città scelta a 30 anni dalla strage di via Palestro nel giorno del ricordo delle persone uccise le madri padri fratelli le sorelle 500 familiari aprono il corteo le foto dei parenti uccisi sul petto una cosa che mi auguro che la politica ascolti ascolti la voce che arriva dal basso dalle associazioni dai movimenti dai familiari perché l'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa non conosce la verità Vincenzo Agostino padre di Nino agente di polizia ammazzato da Cosa Nostra Carini in Sicilia nell'89 da quel giorno non si è più tagliato la barba la barba la taglierò quando avrò terminato i processi che ci sono in corso 70.000 persone molti giovani sfilano fino in Piazza Duomo c'è il sindaco di Milano Beppe Sala insieme al segretario della CGL Landini e a Elis Schlein segretaria del PD la mafia non si combatte alzando il tetto del contante dice ricordate sempre ragazze e ragazzi se posso chiedervelo che siete la generazione della speranza quella a cui Don Diana ha passato idealmente il testimone della legalità ai giovani si rivolge il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha scelto Casal di Principe Roccaforte di Camorra per rendere omaggio alla memoria di Don Peppe Diana il prete antimafia ucciso 29 anni fa in chiesa prima della messa e che definisce un eroe dei nostri tempi ci prendiamo ancora qualche secondo per ricordare che se n'è andato all'età di 92 anni il regista Citto Maselli una figura ben conosciuta del cinema italiano è stato prima documentarista e assistente di Antonioni e di Visconti e poi ha fatto il regista con alcune pellicole che restano nella storia del cinema del dopoguerra gli sbandati e gli indifferenti lettera aperta a un giornale della sera il sospetto storia d'amore con cui andò l'ultima volta a Venezia nel 1986 dopo di noi a 8 e mezzo di Gruber ospita Stefano Massini Massimo Giannini Aldo Cazzullo e Flavia Giacobbe poi tra gli ospiti di Giovanni Floris a di martedì ci sono Roberto Speranza e Carlo Calenda ci fermiamo C'è un importante aggiornamento da dare perché gli Stati Uniti hanno preso posizione rispetto all'esito del colloquio Putin-Xi Jinping la Cina non ha una posizione imparziale sulla guerra in Ucraina e se vuole giocare un ruolo costruttivo dovrebbe sollecitare la Russia a mettere fine al conflitto questo è stato scandito dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Americana Kirby la Russia e la Cina vorrebbero vedere il mondo giocare con le loro regole non si può definire una relazione tra i due paesi come un'alleanza questa è la posizione degli Stati Uniti che ieri avevano definito era stato lo stesso Kirby il rapporto tra Mosca e Pechino come un matrimonio di interessi e andiamo a vedere allora come ha chiuso molto in positivo la borsa italiana vedete 2,53 il guadagno a Piazza Affari e in questo momento più 0,79 Dow Jones più 1,42 il Nasdaq è tutto Gruber Floris ci vediamo domani buonasera a Piazza Affari a Piazza